ben tornati cari telespettatori di fano tv alla rassegna stampa del mattino oggi lunedì 30 agosto siamo alla fine ormai di questo mese che sta scivolando via ultimi giorni insomma ci apprestiamo a vivere questa settimana che comunque ancora per qualcuno è una settimana dedicata alle ferie iniziamo con il santo anzi santi perché sono due martiri i martiri felice e ad autto il sole sortole 6 31 e tramonterà le 19 54 andiamo a vedere il tempo il tempo previsto per oggi dalla protezione civile delle marche è cielo sereno poco nuvoloso con debole convenzioni le zone alto collinari e montane il pomeriggio qualche nuvola temperature in aumento soprattutto nei valori massimi per quanto riguarda la giornata di domani vedete sulla costa c'è il cielo sereno all'entroterra invece ancora un po di nuvole ma le indicazioni sono di tempo stabile anche per i prossimi i prossimi giorni allora dicevamo ultime battute di questo mese di agosto ma insomma prima di parlare della fine dell'estate ancora ce n'è bagnini stanno prolungando vogliono prolungare la stagione e allora io mi collego con nicoletta pompei da san benedetto del tronto bagni nick dal 1967 buongiorno nicoletta buongiorno ciao ciao buongiorno allora intanto grazie grazie per questo collegamento ti chiediamo di farci vedere la tua spiaggia la spiaggia da dove ci colleghiamo questa mattina siamo proprio in san benedetto del tronto la spiaggia riviera delle palme eccole là in fondo guardate che meraviglia sì allora ci racconti in un minuto dai raccontaci un po allora niente c'è gente la stagione diciamo che è andata abbastanza bene adesso abbiamo avuto l'altro ieri e ieri il tempo non è stato un granché infatti stamattina ancora gli ombreoni sono chiusi fa c'è un po di vento e fa freddo però la gente c'è ancora c'è stato il cambio ieri siamo piedi di nuovo fino al 5 di settembre è pieno e speriamo di lavorare fino al 15 perché dobbiamo recuperare un po ecco perché la stagione è iniziata pure un po più tardi visto causa covid quindi bene allora nicoletta grazie intanto per questo primo collegamento oggi dai ti liberiamo subito così hai modo anche di metterti al lavoro intanto noi ci sentiamo domani domani ci racconterai un po della tua spiaggia i servizi quant'altro va bene a domani grazie mille va bene ok grazie ciao a tutti allora adesso invece rimaniamo sempre in tema perché il carino di pesero questa mattina per esempio titola i bagnini pronti ad allungare la stagione ma gli albergatori pensino a portare i turisti dopo l'appello del presidente di apa hotel fabrizio oliva i titolari degli stabilimenti balneari assicurano le aperture fino al 20 di settembre giuliano invece della confartigianato dice siamo favorevoli a potenziare la bassa stagione ma occorre una seria politica a tutela delle spiagge questo il titolo contatto di fotografia della nella pagina di pesero del caneo di oggi allora andiamo a vedere invece adesso le prime pagine la prima pagina del corriere adriatico questo il titolo d'apertura all'edizione di pesero visionari per sognare da capitale la corsa per la candidatura a città regina della cultura 2024 parliamo di pesero ovviamente si arricchisce di tre nuovi progetti il comune cerca giovani creativi che ridisegnino luoghi e non solo primo step nel fine settimana centro pagina però la sconfitta amara dei biancorossi cioè la vis pesero che ha perso 3 a 0 a siena e il titolo è la visi inizia male la stagione di spalle invece il caso pesero digos in allerta per il raduno anti green pass di mercoledì la digos ma adesso qui secondo me si sta un po esagerando nel senso che un po in tutta italia sono in programma dal nei prossimi giorni sono in programma delle manifestazioni per bloccare le stazioni dei treni perché sapete che dal primo settembre serve il green pass anche per salire sui treni quindi ci si stanno organizzando il popolo dei green pass che è un popolo vastissimo per tentare di trovare una di mediare trovare una soluzione cercare di convincere il governo a trovare un'altra soluzione che non sia quella del green pass obbligatorio poi razzia a media world siamo sempre a pesero malviventi in fuga con prodotti tecnologici furbetti dei rifiuti saranno invece sorpresi dalle fototrappole e poi rubano un calice il calice della messa colletta per ricomprarlo questo è successo a santa maria nuova a fano sempre a fano il bilancio del carnevale estivo statico con i carri ma molto attivo parla la giammarioli la presidente dell'ente carnevalesca che dice un esempio in italia poi lo sport motociclismo fenati vince a silverson e si rilancia la scolano incanta nella moto 3 la carlino di pesero invece vaccinatevi o rischiamo il caos è il titolo e il virgolettato di un'intervista che damiani ha realizzato con l'assessore regionale salta martini che dice temo il peggio per l'autunno il mio posto a rischio no il mio posto a rischio non è a rischio dice un falso c'è una voce che da qualche modo il posto di assessore regionale alla sanità appunto a rischio perché qualcuno comincia a storcere il naso soprattutto anche su queste uscite così molto forti dell'assessore regionale che vorrebbe tutti vaccinati dal primo all'ultimo vis l'esordio è un incubo invece la fotonotizia anche il carlino punta sullo sport a siena finisce tra zero espulso gavazzi mentre allungare la stagione abbiamo visto in spiaggia fino al 20 di settembre i bagnini dicono siamo pronti affano invece il problema dei vandali i vandali in azione contro i pannelli decorativi nel sottopasso di viale cairoli quello che è stato inaugurato quello anche molto bello con tutti questi queste opere all'interno ma che se non controllate dagli occhi elettronici delle telecamere sono ovviamente fanno gola a tutti quegli sbandati che lì passano giorno e notte festa dell'unità invece sempre a pesaro il confronto tra il sindaco di pesaro e quello di firenze nardella piazza blindata ma niente contestatori poi verso la riapertura parliamo di ferrovia pergola fabriano tecnici al lavoro per sistemarla e sotto lo sport vl moretti a pesaro per riscattarmi parla il nuovo vol il nuovo volto della squadra di petrovic pronto dopo il covid ma è stata dura poi serie d il calcio quindi con l'alma juventus fanno nove gol nel primo test della stagione quindi è andata benissimo è un amichevole a rivisondoli contro il montenero ma gioffre che è l'allenatore dice partita interpretata bene ma insomma stiamo con i piedi per terra ora ripartiamo dalle pagine interne andiamo a vedere subito questa notizia che riguarda sul Corriere Adriatico a pagina 9 i no pass i no pass quelli che non vogliono il green pass da non confondere con i no vax perché tra i no pass ci sono anche tanti tante persone che si sono vaccinate ma che giudicano questo assurdo lascia passare come qualcosa di assolutamente illogico ora i no pass vogliono bloccare i treni nell'elenco spunta la stazione di pesaro la protesta mercoledì quando il certificato verde diventerà obbligatorio appunto per viaggiare la digos è in allerta e ha predisposto specifici servizi d'ordine infatti pesaro è stata inserita in questo elenco di città dove mercoledì pomeriggio primo settembre si annuncia la protesta delle frange eterogene dei no pass che nelle intenzioni non vogliono far partire i treni dalla stazione una protesta che si prefigura come interruzione di pubblico servizio e che viene punita come reato dal codice penale la data non è stata scelta a caso dunque mercoledì primo settembre è infatti il giorno in cui in tutta italia entrerà in vigore l'obbligo del green pass per chi vuole viaggiare su treni a lunga percorrenza come le frecce o gli intercity tanto per farvi capire ma ormai credo che anche quelli che sono un po così i talebani del del vaccino o del green pass hanno capito che insomma è una tessera che non ha nulla di scientifico è soltanto una tessera politica atta a invitare con caldamente a fare il vaccino quindi è in logica a tutti gli effetti perché basti pensare che per i treni a lunga percorrenza serve il green pass per quelli a breve percorrenza no come se il virus facesse distinzione tra i treni regionali e quelli invece i frecciarossi a quelli che vanno magari a milano roma eccetera e quant'altro però questo è vandali danneggiano il sottopasso di viale cairoli qui invece siamo a fano questa è la fotografia del sottopasso di viale cairoli come dicevo che è stato danneggiato probabilmente con un calcio insomma qualcosa che ha danneggiato irrimediabilmente questo pannello con questo disegno è il secondo episodio a distanza di poco tempo rovinati i pannelli decorativi realizzati dai ragazzi del liceo artistico a Polloni e adesso chiaramente si cercherà di correre ripari con che cosa con l'installazione di almeno quattro telecamere così ho letto da qualche parte credo sul Corriere Adriatico insomma l'installazione di telecamere che serviranno per fare data interrente in qualche modo mentre ieri anche chi è iscritto al nostro gruppo reporter di strada siamo più di 8.000 8.200 iscritti se non ricordo male a un certo punto impazzava questa immagine ripresa da più punti qui addirittura dall'entroterra guardate che spettacolo altri invece dalla spiaggia è la formazione di una tromba d'aria davanti a Marotta ma era visibile a fano eccetera insomma non c'è stato nessun danno lo show della natura impazza sui social scrive il resto del Carlino poi sotto ancora una tartaruga caretta spiaggiata senza vita ma può essere morta per cause naturali è stata ritrovata a Baia Metauro da Gabriele del Club Nautico poi sulla questione invece del nuovo della vasca che serve per evitare l'inquinamento all'Arzilla siamo vicino Fano ovviamente Serie ed Aset devono trovare la soluzione chiedono Pollegioni e del Vecchio dell'Udici che intervengono sul nodo del torrente fanese lo vedremo tra poco anche qua sul Corriere Adriatico vedete di spalla batteri fecali in mare che fallimento quella vasca l'Udici chiede al Sindaco Serie di verificare le responsabilità ma la notizia più importante come vedete dal Corriere di questa mattina la pagina di è riguardo a un furto il furto di un calice un calice che è un oggetto sacro che serve per celebrare messa il Priore Padre Mandolini di Santa Maria Nuova dice colpito al cuore un furto sacrilego a Santa Maria Nuova colletta dei fedeli per ricomprarlo tra l'altro Padre Mandolini sta in questa fotografia proprio mostrando il nuovo calice che è stato acquistato anche con l'aiuto dei fedeli l'oggetto questo oggetto sacro era nella sacrestia chi l'ha sottratto probabilmente conosceva già i locali e Padre Mandolini dice d'ora in poi d'ora in avanti la sacrestia sarà ben chiusa a chiave e gli oggetti in essa riposti saranno ben tutelati la fiducia rivolta nel prossimo questa volta è stata mal ripagata e quindi adesso si chiude tutto a chiave adesso invece parliamo un attimo della questione dei vaccini lo facciamo attraverso la pagina del resto del carino di questa mattina che porta la firma di Roberto Damiani siamo sul resto del carino il titolo è questo ora Saltamartini teme un settembre nero teme un settembre nero vaccinazione a rilento prevedo il peggio l'assessore preoccupato per le zone nelle quali l'indice degli immunizzati è troppo basso anche qui si usano termini che non sono corretti il virus sappiamo benissimo che non immunizza proprio niente perché abbiamo Israele lo dimostra come questo virus ormai abbia imparato a dribblare i vaccini quelli che ci sono in questo momento che stanno iniettando in questo momento e quindi le persone sono assolutamente vulnerabili quindi il vaccino non copre totalmente questo è chiaro e quindi entra e va direttamente fa quello che deve fare poi chiaro che serve il vaccino serve lo ribadisco serve serve soprattutto le persone che sono fragili le persone che non stanno bene queste persone devono assolutamente vaccinarsi ma come leggevo tra l'altro ascoltavo ieri un virologo non un igienista un virologo gli italiani si affidano agli igienisti a ai veterinari noi invece o meglio ci sono paesi che invece danno spazio e ascoltano i virologi quelli che studiano dalla mattina alla sera i virus e diceva questo virologo che la vaccinazione di massa è un errore madornale perché di fatto obbliga questo virus a mutare continuamente e arriverà ad essere un mostro nei prossimi mesi un mostro che farà veramente paura e tutto questo per colpa della vaccinazione di massa non la vaccinazione mirata alle persone che hanno necessità di essere protette in qualche modo ma la vaccinazione di massa cioè tutti anche chi sta bene tutti e questo però qui ce la raccontano in un altro modo ce la raccontano in un altro modo e quindi vediamo come la racconta salta martini questa mattina rispondendo al telefono a roberto damiani e andiamo a leggere qua sotto allora la domanda di damiani a salta martini al telefono è questa la sua collega di giunta giorgia latini sembra strizzare l'occhio ai novax anche qui quando parliamo di novax è bene distinguere perché ci sono novax e sono pochissimi quelli che da sempre non hanno vaccinato i figli contro il morbillo contro la rosoli e contro perché ce l'hanno con i vaccini e quelli sono i novax puri e duri quelli che non cambiano idea manco morti poi ci sono quelli che invece vorrebbero essere liberi di poter scegliere e che basta che dicano questa vengono etichettati come novax questi non sono novax io non sono un novax ho tutti i vaccini che mi sono stati imposti da quando sono nato e se devo farne di altri li rifaccio questi vaccini francamente vorrei essere libero di scegliere così come la stragrande maggioranza delle persone vuole essere libera di scegliere se farlo o no non sentirsi dalla mattina alla sera chi ti obbliga chi ti dà la caccia chi col camper chi con quello ecco queste sono cose antidemocratiche illiberali lei non è una novax risponde salta martini riferendosi a giorgia latini perché giorgia latini strizza sembra strizzare l'occhio a novax contesta l'obbligatorietà del glim pass sentite e vuole che si vada a scuola senza permessi la risposta di salta martini è lei non è una novax credo che si sia anche vaccinata o che abbia avuto il covid io la conosco la latini fa un altro ragionamento dice visto che ci sono tanti novax o comunque gente che non vuole vaccinarsi o questo è più corretto che facciamo ignoriamo il problema così ci si parla si cerca un filo di dialogo ed è quello che fa che fa giorgia latini quindi brava giorgia latini molto brava giorgia latini quindi mentre all'inizio di questa pandemia avevo parole di stima nei confronti di salta martini quindi un punteggio molto alto adesso posso dire che insomma si sta non mi sta piacendo un granché questo assessore quindi dico la verità per il modo anche i termini toni che sta usando in questi in queste settimane mentre giorgia latini è sta dicendo cose interessante sta dicendo cose sensate di buon senso ignoriamo il problema ignoriamo il fatto che ci sono persone che non vogliono o che vogliono in qualche modo essere liberi di decidere parliamone 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 ora così facendo è sicuro di convincere gli indecisi a vaccinarsi altra domanda di damiani a salta martini la risposta è no a settembre ottobre soprattutto nella zona di macerata c'è da aspettarsi il peggio l'indice dei vaccinati in quella provincia è troppo basso rispetto alla popolazione questo comporterà un aumento dei contagi ospedali di nuovo sotto stress e conseguenze molto gravi per i non vaccinati fate qualcosa per cambiare il destino abbiamo acquistato 500 mila tamponi salivari per tenere sotto controllo i focolai che scoppieranno inevitabilmente a meno che molta più gente vada a vaccinarsi vedete è il racconto che ci continuano a dire come se il vaccinato è iperprotetto quindi danno informazioni anche sbagliate perché chi si vaccina l'abbiamo detto mille volte ma ve lo dicono sempre in modo strano chi si vaccina corre lo stesso rischio di contagiarsi di chi non è vaccinato chiaro il non vaccinato che non sta poi neanche tanto bene in salute e magari un po così lascia correre non corre subito ai ripari quando poi che il virus è facile che poi si ammali e vada a finire pure in ospedale quindi il vaccinato ha una protezione in più rispetto al non vaccinato ma si contagia e può contagiare allo stesso modo quindi togliamoci dalla testa che il vaccinato è immune non è immune da niente la situazione qual è nelle terapie intensive in questo momento ci sono 16 persone di cui due risultano vaccinati almeno con una dose non credo che serva altro per dimostrare che senza vaccino si rischia la pelle in ogni momento ecco allora bisogna poi e qui chiudo la parentesi vedere quanti sono quelli che si ammalano di covid cioè che prendono il covid e quelli che guariscono lì capirete facendo più e poi la sottrazione meno la differenza vedete qual è il problema il problema è lasciamo stare e andiamo avanti si finge carabiniere per tentare il furto in casa ma lui è il complice sono costretti alla fuga la cronaca è successo giovedì sera ai danni di una famiglia residente in via zanella l'uomo si era presentato come un militare in borghese questo è successo venerdì notte è successo intorno sì venerdì notte e questo è il racconto che fa elisabetta rossi sul giornale di questa mattina poi l'adria media world rubate macchine fotografiche pc il furto è avvenuto la notte scorsa il bottino a un valore di 9 mila euro aggressioni in carcere invece paulini della lega interroga il ministro solidarietà agli agenti anche dell'onorevole marchigiana di fratelli d'italia albano che chiede di dotare di teaser quella scarica elettrica la macchinetta che scarica l'elettricità in dotazione agli agenti di polizia poi invece il correa adriatico ladri all'assalto di media world ancora cronaca per fare razzia di articoli ai tech il colpo è avvenuto nella notte tra sabato e domenica e malviventi hanno forzato una grata anche qui vedete lo show della tromba d'aria avvistate ieri mattina a largo da numerosi bagnanti da pesero praticamente fino a marotta e poi restituiti alla proprietaria i quadri trafugati il furto delle opere avvenuto a cavallo tra marzo e maggio caccia al tesoro di scopre fano il covid non ferma il carnevale la presidente giammarioli è soddisfatta e dice presi ad esempio in italia c'è anche la qualità è stato un carnevale estatico per dire insomma che i carri erano fermi con i carri allegorici in posizione senza sfilati in maschera per ragioni precauzionali ma è riuscito lo stesso a catturare l'attenzione di fanesi e turisti quindi le grandi allegorie hanno arredato tre punti del centro storico il giudizio dei caristi storici tra quelli che appunto hanno fatto la storia del carnevale qualcuno dice che è piaciuto qualcun altro un po più critico però insomma in linea di massima questa edizione che insomma più di questo non si poteva fare è andata in archivio mentre sotto arrivano cioè scusate ancora i vandali l'assessore dice ora tolleranza zero nel sottopasso di via cairoli pannello di nuovo danneggiato presto eccolo qua quattro telecamere avevo letto qua sul Corriere Adriatico quelle telecamere di cui noi avevamo detto già dall'inizio detto beh adesso qui serviranno le telecamere perché altrimenti vedrete che prima o poi qualcuno danneggerà il tutto infatti così è arrivato e così è stato patto tra marche multiservizi e piano del bruscolo sempre dal Corriere per incastrare i furbetti dei rifiuti fototrappole posizionate nei punti nevralgici di Pesaro Vallefoglia Monbaroccio e Tavuglia dunque si riparte dalla sicurezza urbana e si riparte soprattutto con queste fototrappole che anche qui faranno da deterrente e cercheranno in qualche modo di evitare che qualcuno nottetempo vada lì e scarichi di tutto come si vede da questa fotografia una foto d'archivio di rifiuti abbandonati nella zona di Villa San Martino da Senigallia non risponde ai vicini e quindi scatta l'intervento dei Vigili del Fuoco c'è stata paura in un quartiere di Senigallia un uomo che chiede aiuto ma non va ad aprire si mobilita il vicinato i pompieri scalano il palazzo e lo trovano a terra però i Vigili del Fuoco hanno scoperto subito che l'uomo era semplicemente rimasto vittima di una caduta poi si è subito rialzato stava bene non c'è stato nemmeno bisogno del trasporto in ospedale però naturalmente c'è stata molta apprensione anche preoccupazione anche perché quest'uomo aveva chiesto aiuto poi non ha più risposto e quindi giustamente uno pensa al peggio imbrattata la fontana Giacomelli sempre dalla pagina in Senigallia del Corriere una rissa tra ragazzini ubriachi frasi offensive sul bordo della vasca allarme dei residenti la polizia identifica due minorenni chiudiamo con lo sport lo sport di oggi quello giocato riguarda il calcio Vis Pesero che perde a Siena 3 a 0 finisce 3 a 0 Biancorossi già sotto dopo un minuto Capitan Gavazzi si fa cacciare via poche occasioni in fase offensiva troppi individualismi insomma brutta vis al debusto il Siena domina e dilaga sotto le pagelle centrocampo anonimo si salvano Cannavo e Tonso bene il subentrato Marcandella e con questo chiudiamo qui la nostra segna stampa il commento alla stampa del giorno grazie come sempre per averci seguito vi auguro una buona giornata e vi do appuntamento questa sera alle 20.30 con il telegiornale occhio alla notizia arrivederci